Gaetano Monachello Gaetano Monachello Quanto è importante per un giovane come te? Avere la fiducia? Essere all'Atalanta, essere a disposizione nel conosco a essere convocato per una maglia azzurra Quanto è importante? È importantissimo Infatti io ringrazio sempre il mister Di Biaggi Ringrazio il mister Rea Tutto lo staff Ringrazio il direttore per avermi dato questa possibilità che mi ha fatto arrivare anche nella nazionale È importantissimo avere questa fiducia e spero di ripagare sempre i migliori demodi segnando dei gol ma soprattutto aiutando la squadra a vincere